Eliminare il virus dell'HIV è un obiettivo da raggiungere con coraggio e determinazione. Oggi voglio presentarvi un fusto che da anni combatte l'AIDS e sostiene la ricerca. È il bonsai di Unlights. Il 3 e 4 dicembre i bonsai di Unlights ti aspettano inoltre mille piazze italiane e fino all'11 dicembre anche nei negozi di arredamento Amici del Bonsai. Scopri dove su unlightsonlus.it. Dal 3 all'11 dicembre scegli il bonsai e sostieni anche tu Unlights per un futuro senza IBS.